Radioattività con Diego Fusaro, lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Ebbene sì, alla fine sono realmente arrivate, e ancora stanno arrivando, le multe per chi, sopra i 50 anni, ha scelto di non farsi benedire col Santissimo Siero sempre laudando in secula seculorum, che è poi, come sappiamo, il nuovo sacramento della religione terapeutica. Sono realmente arrivate e ancora stanno arrivando le multe, e ciò segnala il fatto che sotto questo riguardo il governo dei migliori ha realmente mantenuto le promesse che in vero suonavano come minacce. Come più volte ho ribadito, non si tratta di essere a favore o contro i vaccini. Si tratta semplicemente di riconoscere che sul proprio corpo ogni individuo ha il sacrosanto diritto di decidere cosa fare o non fare. E soprattutto non è ammissibile in uno stato democratico che chi scelga di fare cose non gradite all'ordine del potere sul proprio corpo venga trattato come un cittadino di seconda classe o addirittura come un non cittadino, vedendosi privato financo del diritto al lavoro. E storia reale, de nobis fabula narratur. Deve essere chiaro che i 100 euro di multa per i non benedetti col Santissimo Siero sempre laudando in secula seculorum sono una cifra simbolica. La posta in palio non è principalmente economica, è invece una posta in palio di tipo simbolico. L'obiettivo principale, da parte dei pretoriani del nuovo ordine terapeuticamente corretto, è il seguente. Far capitolare chi per una ragione o per l'altra ancora non si fosse genuflesso al nuovo leviatano tecno-sanitario. Chi paga quella cifra, 100 euro, una cifra simbolica ripeto, riconosce e ammette con ciò stesso la legittimità di un sistema che a tutti gli effetti può essere detto delirante. Un sistema, voglio ripeterlo, che ha rimosso financo il diritto al lavoro in nome del diritto alla salute innalzato a diritto supremo quando non esclusivo. L'abbiamo sottolineato in più occasioni. Lo stato di emergenza si caratterizza per il fatto che congela lo stato secondo Costituzione per il tempo di un'emergenza che tuttavia sembra non finire mai, consolidandosi in nuova normalità, cosicché il congelamento dello stato secondo Costituzione tende a durare sine die, tende a essere eterno. Sotto questo riguardo permettetemi ancora di dire che nello stato secondo emergenza i diritti dello stato secondo Costituzione vengono derubricati a minacce per la salute pubblica e così il diritto al lavoro, il diritto all'assemblea, il diritto all'istruzione vengono sviliti e condannati come pericolose minacce per la salute pubblica. E dato che la salute pubblica viene prima di tutto nello stato di emergenza, ecco che allora i diritti fondamentali dello stato secondo Costituzione vengono sospesi in nome del superiore diritto alla salute. Insomma, la posta in palio simbolica per quel che riguarda i 100 euro della multa è questa. Il potere tecno-sanitario vuole vedere e controllare chi, dopo aver peccato rifiutando il sacramento della benedizione, è ora disposto a redimersi. A redimersi espiando con la multa la propria colpa, rientrando infine docilmente nella schiera dei credenti della religione tecno-sanitaria. Anche perché, come ormai dovrebbe essere chiaro a tutti, l'emergenza terapeutica è ben lungi dall'essere terminata. Con il suo andamento a yo-yo o a rocchetto ci proporrà ancora molte fasi 1. Già infatti gli ierofanti del nuovo ordine terapeutico si adoperano con zelo a segnalare che in autunno arriveranno nuove e più pericolose varianti. E già ora si parla con non curanza, come se fosse un argomento secondario ma destinato a diventare di primaria importanza più avanti, di nuove varianti ricombinanti e minacciose, che resistono alle benedizioni fatte finora e che addirittura forse resistono anche alle mascherine. Insomma l'emergenza non è affatto finita. Insomma il leviatano tecno-sanitario vuole vedere sudditi fedeli che credano realmente nella religione terapeutica in ogni sua determinazione.